Ciao ragazzi, oggi volevo parlarvi di tre o quattro esercizi che faccio per il potenziamento della gambata rana. Quello di cui avete bisogno è un tappetino, una swissball, una fluidball, sovredite anche una palla di gomma e due gambe, volare un attimo. Allora più piano, vai. Ok, tira bene sul bacino, vai. Bravo. Piudi bene le ginocchia. Ma tieni le spalle ferme. Vai. Tieni le spalle ferme. Bravo. Ok. Le braccia anche. Bravo. Schiaccio, 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 schiaccio. Stai, 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 stai. Stai ancora. Cinque secondi. Quattro, tre, due, uno. Tieni. Tieni, tieni, tieni. Fai dei piccoli molleggi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Secondi. Secondi. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Tutto che. Tres, cinque, quattro, quattro, tre, due, uno. Trattiamo,парro. Everybody, tu... onen, despertiamo! Uno. Tres, due, uno. Di col